CTL è un'azienda che nasce nel 1986 con la produzione di termocamini. L'azienda è un'azienda calabrese a sede a Bisignano in provincia di Cosenza e questo è il nostro sistema brevettato. Come potete vedere abbiamo tutte le certificazioni richieste, abbiamo le certificazioni IMQ per quanto riguarda il test sulle nostre caldare e stiamo a marchiagire su tutti i nostri prodotti. Il nostro scopo è quello di arrivare a vendere in tutte le parti del mondo con il nostro sistema. CTL divide la sua gamma in tre suddivisioni specifiche. Abbiamo la linea aria dove produciamo la 11 e la 15 kW, sono caldaie ad aria, sono molto potenti, ideale per ambienti molto grandi, per riscaldare ambienti anche come una seconda casa. Poi abbiamo la linea idro con tre prodotti differenti, la 18, la 25 e la 35 kW. Poi abbiamo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, la linea cantina, che sono delle caldaie vere e proprie, vengono installate in locali tecnici oppure in locali adatti per evitare che magari la stufa possa dare per problemi di ingombro o qualche altra cosa. Abbiamo due potenze in quel caso, 25 e 35 kW. CTL porta come novità in piera qui a Padova la stufa maiolica, è composto interamente in maiolica, la sua particolarità è che non ha rivestimenti esterni se non quella della maiolica, è possibile intercambiare il normale rivestimento in lamiera direttamente con la maiola su una stufa già esistente. Le colorazioni che abbiamo portato qui a Padova sono quella bordeaux e bianca, possiamo anche prendere le varianti in testa di muro marrone e bianca oppure completamente bianca.